Prendete il cartoncino giallo, giratelo in verticale, iniziate a piegare il primo lembo in modo che la piegatura avvenga al punto d'incontro tra la colonna di ottobre e quella di novembre. Girate il cartoncino sull'altra facciata ed effettuate una nuova piegatura, stando attenti a mantenere ben separate le colonne. Ripetete di volta in volta l'operazione, assestando le piegature con la pressione di pollice e indice. Una volta concluse le procedure, ecco pronto il vostro calendario. Se siete riusciti nell'impresa di piegarlo alla perfezione, complimenti! Sventagnatelo allegramente come ventaglio, apritelo e mostratelo con orgoglio e portatelo sempre con voi. Sventagnatelo allegramente come ventaglio e portatelo sempre con voi.